Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. È finito il pump di Bitcoin, oppure il re delle cripto si è preso solo una pausa per poi ricominciare a galoppare come ha fatto negli ultimi giorni. Oggi cercheremo di rispondere a questa domanda analizzando una serie di punti, una serie di dati importanti che sono andato ad estrapolare dalla rete e poi faremo il collage, ve lo ricordate? Art Attack ragazzi, lo facciamo. Il collage di tutti questi punti, mettendoli uno dietro l'altro per cercare di rispondere a questa domanda. Siamo arrivati a un massimo di medio periodo, di un massimo relativo, se dobbiamo chiamarlo in maniera tecnica, oppure il mercato ancora non ha finito la sua galoppata, potrà ancora salire nelle prossime settimane. Allora, cerchiamo di rispondere a questa domanda analizzando dati, analizzando sia i grafici con l'analisi tecnica, sia dati di natura fondamentale che ho prelevato dalla rete per voi e unito ragazzi, e lo vedremo in questo video. Ma prima di andare nel vivo di questo video ragazzi, essendo un video stra importante, che mi ha preso anche tanto tempo, insomma lo vedrete ragazzi, perché fare questi collage di dati fondamentali non è mai così semplice, vi chiedo di condividere il più possibile questa informazione, pollicioni in su, e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Spostiamoci sui grafici. Il primo punto che trattiamo ragazzi è il grafico di Bitcoin, quello che vediamo anche lunedì, perché faremo intanto il briefing su quelli che sono stati pulsi di natura tecnica, di analisi tecnica ragazzi, e analisi ciclica relativamente a questo pump. Allora, lunedì ragazzi ci siamo ritrovati nella scorsa settimana, con questa fase dove io, questo grafico che stiamo vedendo in questo momento, dove vi avevo accennato alla close di un ciclo che era avvenuto il 16 di aprile, e che eravamo in pratica nel nuovo ciclo mensile ragazzi. Poi da qui potevamo andare a fare una serie di movimenti, questo ciclo mensile in teoria va in close verso fine mese di maggio, quindi ancora c'è molto tempo e il mercato potrebbe continuare a spingere al rialzo. Cosa è successo ragazzi? Da un punto di vista di fattore tecnico che ha spinto questo pump di Bitcoin, c'è stato il break, in pratica due tipi di break. Uno è quello della media mobile a 200 periodi, l'altro è di questo livello ragazzi, che era il break del precedente massimo, intorno a 7500. Quindi Bitcoin cosa ha fatto? Ok ragazzi, allora il livello di resistenza importantissimo era questo qui, circa 7500 ragazzi, ok? Dopodiché vedete che Bitcoin nella giornata del 23 aveva rotto questo livello, facendo un altro massimo a 7800 ma aveva ritracciato, quindi in realtà aveva spostato il break ai 7800 ragazzi, perché? Perché poi quando il break è veramente avvenuto, più o meno nella giornata del 26 aveva accennato il 25, ma il 26 ha fatto il vero break di 7500, il mercato era indeciso perché si trovava un'altra super resistenza, cioè il massimo della candela del 23, e quindi si è fermato a ragionare. Dopodiché, bam, vedete qui il candelone del 29 ragazzi, che ha fatto due break importantissimi, uno quello appunto definitivo della zona, che poi era diventata una zona, vedete qui tra 7500 e 7800 dollari, e poi l'altro break importantissimo, quello della media mobile a 200 periodi ragazzi. questi fattori di natura tecnica annessi a quella che era l'analisi ciclica che vi avevo già accennato, cioè il fatto che noi ci trovavamo nel bel mezzo del ciclo nuovo mensile, quindi di questa fase in pratica, era disegno qui sotto, di questa fase up, perché i cicli ragazzi hanno questa struttura, ok? Quindi noi eravamo nel pieno della fase di andamento positivo, quindi ancora ci siamo ragazzi, non siamo arrivati nel culmine, diciamo che ci vuole ancora un po' di tempo per arrivare, ma questo lo vedremo lunedì ragazzi, non vi confondo in questo video. Perciò tutti questi fattori di analisi tecnica e analisi ciclica hanno contribuito alla pump di Bitcoin. È solo questa la motivazione? Oppure possiamo andare a trovare anche altri motivi? Andiamo a vedere i fattori di natura fondamentale, perché sono importantissimi. Primo fattore di natura fondamentale, flusso di liquidità istituzionali, di fondi istituzionali. Verso la fine del mese di marzo, uno dei più grandi hedge fund di investimento quantitativo ha fatto richiesta per poter agire e intervenire sui future del CME, quindi i future regolamentati sulle borse, relative a Bitcoin. Questa è una richiesta che porta la data del 30 marzo del 2020, ma se andiamo alla pagina in questione, la Medellin Funds, che è, ragazzi, esattamente questo hedge fund gigantesco, di cui vi sto parlando, che è un hedge fund importante, con rendimenti molto buoni, ragazzi, di natura quantitativa, quindi uno degli esperimenti di natura quantitativa più importanti al mondo, quello meglio riuscito forse, ha richiesto la possibilità di utilizzare i Bitcoin futures e questa richiesta è stata accettata. Un mese dopo circa da questa richiesta, il mercato di Bitcoin fa un super pump. Allora, se effettivamente un hedge fund di questa proporzione è iniziato a fare investimenti su Bitcoin, è entrato con la sua liquidità, e beh, ragazzi, le cose sono cambiate. Andiamo, perciò, a vedere sui grafici anche un'altra cosa, i volumi del Bitcoin futures, quello quotato sulla borsa CME, per capire se effettivamente c'è stato un movimento anomalo. Eccoci, ragazzi, davanti al grafico, sempre TradingView, ma questa volta sono i Bitcoin futures, quelli quotati sul CME. Allora, ragazzi, devo essere sincero, da un punto di vista di analisi volumetrica, come sempre accade, ragazzi, l'analisi volumetrica dipende da una serie di fattori, non ci sono importanti emissioni di liquidità relative a questo periodo. È vero che abbiamo queste due super candele, ragazzi, li vedete qui, ve le metto in evidenza, di grandi volumi che corrispondono proprio al pump, e poi al successivo pump and dump della giornata del 30 di aprile, dove il mercato ha fatto il suo massimo molto alto e poi ha ritracciato violentemente, ma, vedete, non ci sono volumi estremamente importanti, come per esempio quelli che erano visibili in questa fascia, ragazzi, vedete, in questo app, che andava da gennaio fino al massimo di Bitcoin. Da un punto di vista volumetrico non otteniamo grandi e importanti informazioni dai future di Bitcoin. Dove possiamo andare a vedere se effettivamente è entrata una buona liquidità nel mercato delle criptovalute su Bitcoin? Nuova, ragazzi, nuova fresca che sta andando a entrare su questo mercato e compra Bitcoin, veri? Io utilizzo sempre un indicatore che è relativo alla blockchain, perché in questo mercato, ragazzi, non c'è bisogno di andare a guardare così, insomma, i volumi sui grafici, perché la blockchain è un mercato nuovo, ragazzi, e ci consente di vedere le transazioni. Andiamo a guardare il mio indicatore preferito di analisi fondamentali di Bitcoin, le transaction fee sulla blockchain. Eccoci davanti a questo indicatore, ragazzi, cerco di zoomare anche questo, così ce l'abbiamo bello ampio e lo vediamo in maniera abbastanza visibile, ragazzi, le transaction fee di Bitcoin negli ultimi giorni hanno subito un'impennata stratosferica. Allora, ragazzi, le transaction fee sono un indicatore di natura fondamentale che ci indica quanti money, quanti Bitcoin andiamo a pagare per spostare un blocco dentro la blockchain. Quindi, quanto costa, in sostanza, in media, spostare Bitcoin da un wallet a un altro wallet nell'insieme di un blocco della blockchain. E quando vediamo questi picchi, ragazzi, questi picchi che stiamo vedendo in questi giorni, significa che per spostare Bitcoin si paga tantissimo e se avete messo delle fee di spostamento di un, diciamo, da un wallet a un altro wallet molto basse, non vi spostano i Bitcoin perché i miners la blockchain fa, diciamo, lavora prima quei blocchi che hanno delle transaction fee, quindi delle fee molto alte di Bitcoin che vengono pagate ai miners. Quando avviene un evento del genere significa che la blockchain è intasata, ragazzi. Esattamente intasata come se fosse una cosa trafficata, una via trafficata, ragazzi, perché? Perché ci sono state molte transazioni sulla blockchain. Le transazioni sulla blockchain non sono di solito appartenenti al trading, ragazzi, perché chi ha i soldi messi all'interno di un exchange e fa trading, cioè compra Bitcoin poi esce e si prende gli USD, non passa dalla blockchain, ragazzi, rimane all'interno dell'exchange, quindi non c'è una vera transazione. Quando è che avviene una transazione sulla blockchain, ragazzi? Quando noi spostiamo dei Bitcoin da una parte all'altra oppure andiamo a inserire liquidità, compriamo Bitcoin da un exchange e lo spostiamo su un wallet. Esatto, ragazzi, allora questo è quello che abbiamo appena visto ed è esattamente quello che capita. Allora qui in questo giochino questo vi spiega perfettamente il problema della transaction fee, qui vi parlano di Bitcoin Cash che invece è molto fluido, è vero questa cosa, ragazzi, mentre Bitcoin intasatissimo insomma da questa cosa. È bellissimo questo sito, giusto a livello comico ragazzi, niente di più, ma vi fa capire quello che sta succedendo. Siamo tutti qui in coda e non passa nulla sulla blockchain. Uniamo i puntini e tiriamo giù le conclusioni che vi avevo promesso alla fine. Allora, transaction fee elevatissime ragazzi per Bitcoin intorno a 6.32% del blocco quindi il 6.32% del valore di un blocco addirittura va ragazzi nelle fee pagate, sono tantissime, sono altissime. Quando le fee sono alte ragazzi c'è qualcosa che bolle in pentola su Bitcoin. Quindi i volumi in questo caso ok, li abbiamo visti. Abbiamo visto le rotture di natura tecnica sui grafici è ok, ma poi la transaction fee ci hanno indicato che qualcosa è avvenuto. Qualche movimento importante è avvenuto. Istituzionali probabilmente sono entrati sul mercato di Bitcoin hanno acquistato Bitcoin per tenerli in portafoglio li hanno spostati poi su wallet magari diversi quindi non exchange o quant'altro hanno fatto probabilmente degli investimenti. E' anche vero ragazzi che per avere una impennata delle transaction fee in Bitcoin non ci vogliono così tanti soldi insomma. Ecco quindi siamo sempre in un mercato molto piccolo rispetto a quello legato ai mercati istituzionali quindi ricordatevi sempre che questi numeri che vediamo sono anche dei numeri che ci danno delle indicazioni che noi cerchiamo di mettere insieme per avere delle informazioni che poi servono per rispondere. Questa pump può continuare ancora nelle prossime giorni nelle prossime settimane se questi flussi che abbiamo visto non sono finiti cioè non hanno finito di fare queste cose di questi investimenti questi nuovi ingressi probabilmente di nuova liquidità sul mercato criptovalute in questi giorni se non sono finiti probabilmente vedremo continuare questo movimento ragazzi perché avete visto basta pochissimo a muovere Bitcoin questa cosa impatta con la view ciclica 40-60 di cui vi ho parlato settimana scorsa nell'analisi di lungo periodo di Bitcoin si perché ancora non sappiamo se questo benedetto annuale è stato chiuso a marzo oppure a dicembre questa view di continuazione del trend e rottura a quel punto della superesistenza 10.500 andrebbe a confluire solo ed unicamente nella view che il ciclo annuale è cominciato a marzo e non a dicembre se questa cosa è vera ragazzi dobbiamo andare sopra gli 11.000 dollari se questa cosa non è vera continueremo a oscillare vabbè su questo ne parleremo nei prossimi video grazie a tutti e come sempre ciao alla prossima